Ciao, Solidarietà Coatta è un romanzo autobiografico di The Hunter, uscito nel 2018 in Gran Bretagna e nel 2020 in Italia per Allegre, con la traduzione di Alberto Pronetti. È il racconto di un lumpen, un sottoproletario che sin da bambino è vittima di abusi e violenze. Il nonno e i suoi amici abusano sessualmente di lui e sua madre, affetta da grossi problemi psichici, lo induce più volte a prostituirsi insieme a lei. Hunter finisce così ripetutamente in carcere e in istituti di recupero. Quello in cui nasce e cresce è un ambiente fortemente segnato dalla violenza, una violenza che tende a perpetuarsi come in un circolo in cui chi la subisce finisce per rivolgerla verso i soggetti più deboli di questa catena. Ed è qui che emerge la solidarietà tra Chav. Chav è un termine spregiativo con cui la borghesia si riferisce a questo sottoproletariato, quello dei tamarri, dei gipsi come lui, degli indigenti e degli oppressi. La solidarietà nasce spontanea, così tra i compagni di strada e di cella, tra i compagni di prostituzione, e nasce per resistere a un sistema capitalistico di oppressione che tende sempre di più a marginalizzare i poveri e i membri della working class. Nel romanzo poi non c'è alcuna traccia di vittimismo, anzi, Hunter ci tiene a ricordare che la sua condizione rimane una condizione di privilegio. Il fatto di essere un maschio bianco, infatti, l'ho messo a riparo da ulteriori guai e alla fine gli ha permesso di sopravvivere. Lui dice che la sua sorte sarebbe stata probabilmente molto diversa se fosse stato un sottoproletario nero o una sottoproletaria donna. Allora questa è una storia alla fine di riscatto e di fiducia nei confronti della working class. Hunter diventa un militante anticapitalista e antipatriarcale grazie alle letture in carcere di Antonio Gramsci e di Angela Davis. Allora questo secondo me è un libro che va letto perché ai molti di noi che sono privilegiati Hunter tiene a ricordare cosa si è costretti a fare in determinate condizioni per sopravvivere e soprattutto quanto sia importante l'aiuto isperato tra i disperati.